Far finta di lavorare al circo per aggirare le norme sull'immigrazione e entrare liberamente in Italia. Ha toccato anche a Rezzo l'inchiesta partita dalla procura di Palermo che ha portato al fermo di 41 persone in tutto il territorio nazionale. Cinque gli arresti che hanno riguardato il territorio aretino. Un vero e proprio traffico di uomini celato dietro il reclutamento di ballerini, attrezzisti e facchini per i circhi di tutta Italia. L'indagine Golden Circus riguarda i titolari di 18 circhi italiani e un dipendente dell'assessorato della regione Sicilia. In tutto, secondo la squadra mobile palermitana, sarebbero state fatte entrare illegalmente nel territorio italiano 600 persone provenienti da Bangladesh e Pakistan per un giro d'affari di 7 milioni di euro. Per ogni persona reclutata nel circo infatti venivano sborsati fino a 15 mila euro utili a ottenere una falsa autorizzazione all'assunzione. Gli organizzatori, i promotori dell'organizzazione avevano ben pensato di sfruttare una normativa che permette l'accesso in Italia in esubero rispetto alle quote fissate nel decreto flussi qualora i soggetti facciano, tra le altre cose, attività circense. Ad Arezzo sono finiti in manette tre indiani, Kisham Chand, titolare del circo Kumar, un suo connazionale che risultava essere il titolare di un'azienda orafa, la cui sede però era completamente deserta, e un operaio orafo. Gli altri due fermi hanno riguardato Eleuterio De Bianchi, titolare del circo De Blasis, e un disoccupato romeno con diversi precedenti e già agli arresti domiciliari. Loro utilizzavano le richieste di questo personale, di persone che avevano la disponibilità di un circo, per fare in modo che fosse reso all'immigrato, che poi risultava essere ovviamente un overstayer, non avente diritto, o perché non faceva effettivamente attività circense, o perché immediatamente dopo aver fatto l'attività circense, per la quale era stato assunto, rimaneva in Italia come overstayer, e per l'ingresso da questo immigrato venivano percepite dall'organizzazione somme che oscillavano tra i 7 e i 15 mila euro.